Noi abbiamo partecipato lo scorso anno, siamo andati ad altri amici, è stata un'esperienza importante e valida, ci siamo conosciuti anche in vari settori e quindi anche ci è stata una collaborazione, comunque una collaborazione da parte di tutti. È stata importante dal punto di vista iniziale, perché comunque sia l'apporto finanziario non è stato altro, però è stato importante per poter determinare alcune piccole cose, ma è stato importante soprattutto l'apporto che ha dato la Camera del Commercio con tutti i participanti, perché siamo seguiti in quello che erano le finalità, in quelli che erano gli obiettivi, in quelli che erano i nebili, poter arrivare a partire con ognuna a poche esperienze. È stato poi importante anche tutti i conti che sono stati fatti nell'ultimo periodo con i vari tecnici, i vari settori, che sono determinati cose che magari non si sarebbero fatti in alcune occasioni, perché o perché non ha tempo o perché non ha tempo, o perché non ha tempo e poi invece gli incontri che ci sono avuti sono stati importanti, ci hanno aiutato come sia, ma che è determinati aspetti importanti e poter andare avanti, avanti, chi ha già un'altra attività o iniziare, per chi è nuovo nel settore, nel punto di interiore, cercare di fare qualcosa in questa città dove non è sempre tutto è facile, dove iniziare, dove comunque avere la propria esperienza è importante, è importante per i giovani che c'erano, non oltre i giovani, per gli altri comunque è stata un'esperienza sicuramente positiva, almeno sotto il nostro punto di vista. Il tipo di attività, se lo vuoi spiegare? Il tipo di attività è il nostro in particolare, l'attività che noi svolgiamo come gruppo da 13 anni, nel settore sportivo, stiamo in tracetti sportivi, abbiamo lì nel sport di cambiato, anche sotto i 10 anni ormai che si è partiti, si è passati all'attività sportiva alla pianta, al piede della pianta, adesso abbiamo un centro sportivo da Paese di Lisio, dove abbiniamo un'attività non solamente sportiva, attività anche di tempo libero, dove c'è la possibilità di poter tempo libero e anche di ristorazione, perché c'è la possibilità di poter abbinare i vari, sia in tutte le età, tutte le fasce d'età, fino a partire sia dal più giovane, dal bambino, partecipano ai campus, partecipano a dove si possono fare i compleanni, fino ad arrivare alla gestione della ristorazione, quindi diciamo la sera, l'attività di ristorante, pizzeria, quindi è una cosa a 360 gradi e, ormai nonostante sono 30 anni che facciamo, però l'apporto da parte dell'intelligenza, anche a me in commercio è stato importante per poter sviluppare determinati aspetti, anche economici, che difficilmente quando uno ha un'esperienza lavorativa molto alta, una mattina e una sera, difficilmente riesce a poter sviluppare, quindi secondo il nostro punto di vista, secondo il nostro gruppo è stato un apporto molto importante. Grazie. 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 Grazie.